Ciao, per questo secondo sentiero parto da una notizia di cronaca. Saeed suicida a vent'anni e Corriere della Sera, il testo sento gli sguardi schifati per il colore della mia pelle. Nato in Etiopia, adottato, a scuola nocera inferiore, nessuno ha capito il suo disagio. All'apparenza un ragazzo sfidante, arrogante, sembrava sicuro di sé. Beh, quanti ne abbiamo visti e quanti sono stati i nostri compagni simili alla Magliana? Una scuola elementare che in parte era ancora femminile, sto parlando del 73, dove le ragazze, alcune ragazze, specie se erano rom, portavano le croci delle cattive. E poi un giorno così, a scuola, in quarta elementare, arrivano loro, una piccola squadra anomala fatta da Lilli, Carlo e Emanuele. Carlo in particolare ci ha insegnato a giocare a pallone. Avevamo appunto 10-12 anni, era il 1975-77. Ragazze che già giocavano a pallone per il piacere di farlo, e lo dico perché oggi la squadra nazionale femminile di calcio deve rivendicare il proprio spazio ad essere professionista. E questo è il sottotitolo di questo intervento. Come dalle passioni si diventa professioniste da donne. Poi arriva appunto il periodo della passione, il periodo dei gruppi, dei gruppi di incontro, dei gruppi d'amicizia, ma anche gruppi di lavoro. Ragazzi più grandi e più piccoli, senza divisa, senza la divisa degli scout, perché non l'avevamo, insieme per attraversare anni difficili dell'adolescenza alla Magliana, ai tempi del Canaro, di cui peraltro non sapevamo assolutamente nulla, ignari in un quartiere di 70.000 persone. Ragazzi normali come noi, il muretto, la scuola, i primi fidanzamenti, e la passione per l'altrove che almeno in me comincia a farsi strada. Una strada che diventa poi un percorso di studi e una professione. E in realtà chi l'avrebbe mai detto iniziare a trasformare gli studi in filosofia, che poi feci all'università in un percorso alla ricerca di se stessi e poi dell'altro, per non scaricargli e proiettargli addosso tutte le difficoltà che non abbiamo il coraggio di riconoscere in noi stessi. E proprio tramite l'antropologia inizia un percorso di convergenza, il lavoro con una federazione di ONG, le ONG che adesso sono conosciute per i recuperi in mare, ma all'epoca lo erano per cominciare a fare sviluppo dal territorio, quindi lavoro di terreno con le persone che ancora all'epoca potevano essere considerati dei beneficiari e non invece dei partner, come sono a tutto titolo oggi. Quindi ONG, il cui titolo in qualche modo, il concetto di federazione, si diffondeva e nasceva e cresceva proprio dall'incrocio tra aspetti che si occupavano di salute, di agricoltura, ma anche di pedagogia, di educazione. E quindi personalmente questo percorso di lavoro all'interno di una federazione appena nata mi permette di sviluppare un percorso personale di crescita appunto tra la pedagogia, la psicologia e l'etnologia. E questo perché a volte i mestieri che non esistono bisogna inventarli e non si riesce a definirli a volte neanche dopo tanti anni. Da lì inizia proprio il difficile incrocio tra le opportunità e le difficoltà date dai contesti che cambiano. Su un piano diciamo di lavoro collettivo, appunto delle organizzazioni non governative o delle organizzazioni della società civile, inizia una riflessione su quella che viene chiamata educazione allo sviluppo, in anni in cui si discute di nuovo ordine economico internazionale. Poi entra in ballo l'educazione interculturale, in anni in cui l'Unione Europea stava creando i progetti Socrates, che sono gli antesignani degli attuali Erasmus, quindi gli scambi, ma anche l'approfondimento tra partner di alcune tematiche specifiche che permettono di essere educative lungo tutto l'arco della propria vita. E quindi mi viene da ridere perché all'epoca i bilanci erano in ECU, che corrispondono assolutamente agli euro della nostra epoca. Le migrazioni man mano, appunto, tra gli anni 80 e 90 diventano sempre più presenti nel contesto italiano e le scuole cominciano a misurarsi su questo. Gli insegnanti ai quali non viene data l'opportunità di una formazione iniziale su questi temi, ma forti, diciamo, della capacità di sperimentare e di una sperimentazione che comincia a avere la dignità di una struttura, appunto, di una sperimentazione strutturale. Cominciano appunto scuole come la Mazzini o la Manin che facevano sperimentazione su questo tema in maniera accreditata da quello che era allora il MIUR o il Ministero della Pubblica Istruzione. Iniziano anche i primi dottorati in pedagogia su questi temi con una certa fatica, in particolare i temi dell'educazione interculturale e quindi collegati con un'idea di critica al concetto di sviluppo come eredità postcoloniale. I giovani fanno servizio civile, ma il servizio civile dell'epoca ancora corrispondeva a dedicare due anni del proprio tempo per non, diciamo, fare il servizio militare. Quindi era una grossa scelta. Passiamo all'oggi, perché tutto questo percorso deve avere un senso se ragioniamo sull'attualità. Il servizio civile ora è diventato un punto importante con un grosso budget stabilito a questo proposito, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intanto, diciamo, possibile a tutti i generi, nel senso che non è più una cosa che riguarda sostanzialmente o prioritariamente gli uomini. Anche il servizio civile europeo e il servizio civile internazionale stanno aumentando la propria dimensione nonostante l'epoca del Covid. E tutta l'attività formativa legata a questo aspetto spinge appunto su un percorso legati alla cooperazione e non alla competizione, alla convivenza. Altro tema fondamentale che ritroviamo nelle tracce di questo ultimo quarantennio sugli esiti di oggi è proprio il concetto di sostenibilità. Il nostro ministro Giovannini, come portavoce fino a poco tempo fa dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, insiste sul fatto che dobbiamo lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle generazioni future, un ambiente vivibile. Questo è il concetto di sostenibilità e questa sostenibilità è in senso economico, ambientale e socioculturale. Quindi non riguarda soltanto il mondo intorno a noi, ma riguarda anche le dinamiche economiche che così ci riguardano in questa fase odierna. L'educazione, prima allo sviluppo, poi interculturale, e ora alla cittadinanza globale, diventa sostanzialmente un'educazione alla trasformazione. La trasformazione è all'impegno, perché quest'idea attraverso gli articoli 3 e 8 della nuova legge sull'educazione civica, che in Italia stiamo in qualche modo iniziando a sperimentare, abbiamo iniziato giusto da settembre, porta proprio in quest'idea di un impegno civico in cui enti di terzo settore sono impegnati assolutamente insieme alle istituzioni e alla scuola per quest'idea di trasformazione dell'ambiente che ci circonda. Il punto centrale è che senza impegno collettivo, strumento a disposizione in teoria di tutti, secondo le proprie misure e le proprie disponibilità, il mondo non è appunto né trasformabile né sostenibile. Per quanto riguarda me, la mia storia è una storia semplice, come potete sentire, che non nasce da chissà quali prospettive o da chissà quali genitori o parenti, però è una storia piccola e profonda, come l'associazione che abbiamo creato, Crea Onlus, che appunto sperimenta sul campo per arrivare poi ad avere la possibilità di manifestarsi sul livello europeo proprio sui temi della cittadinanza globale. Concord Italia, che è una delle federazioni a cui aderiamo, insieme al Cipsi, il coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale, all'interno dei quali reputiamo che le tematiche che portiamo rispetto all'essere cittadini globali insiste proprio su un'idea di impegno gratuito, costante, collettivo, che però può trasformarsi assolutamente in professione. Io credo che nel momento in cui le nostre vite vengono coinvolte da passioni così grandi la professione è d'obbligo, studiare, approfondire, continuare ad aggiornarsi attraverso le reti esistenti e il confronto fra pari è fondamentale. Per questo, per esempio, l'impegno che personalmente ho in Concord Europe, che è appunto una federazione di circa 2.600 NG europei per rappresentare il nostro paese, ma per rappresentare anche le nazioni che a livello europeo spingono, perché la cittadinanza globale sia una realtà, un diritto, e che quindi sia permesso anche alle persone che possono e vogliono migrare di sentire il proprio territorio laddove loro approdano e farne quindi parte collettiva, beh, questo è un punto centrale che può assolutamente essere oggetto di una professione. Ed è per questo che da ultimo l'impegno è diventato a livello mondiale. Essere responsabile dell'Educational Working Group all'interno del gruppo Civil 20, quindi organizzazioni della società civile, porta proprio in quest'idea di un impegno civico in cui enti di terzo settore sono impegnati assolutamente insieme alle istituzioni e alla scuola per quest'idea di trasformazione dell'ambiente che ci circonda. Il punto centrale è che senza impegno collettivo, strumento, come dire, a disposizione in teoria di tutti, secondo le proprie misure e le proprie disponibilità, il mondo non è appunto né trasformabile né sostenibile. E per quanto riguarda me, diciamo, la mia storia è una storia semplice, come potete sentire, che non nasce da chissà quali prospettive o da chissà quali genitori o parenti, però è una storia piccola e profonda, come l'associazione che abbiamo creato, Crea Onlus, che appunto sperimenta sul campo per arrivare poi ad avere la possibilità di manifestarsi sul livello europeo proprio sui temi della cittadinanza globale. Concord Italia, che è una delle federazioni a cui aderiamo, insieme al Cipsi, il coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale, all'interno dei quali reputiamo che le tematiche che portiamo rispetto all'essere cittadini globali insiste proprio su un'idea di impegno gratuito, costante, collettivo, che però può trasformarsi assolutamente in professione. Io credo che nel momento in cui le nostre vite vengono coinvolte da passioni così grandi, la professione è d'obbligo studiare, approfondire, continuare ad aggiornarsi attraverso le reti esistenti e il confronto fra pari è fondamentale. Per questo, per esempio, l'impegno che personalmente ho in Concord Europe, che è appunto una federazione di circa 2.600 NG europei, per rappresentare il nostro paese, ma per rappresentare anche le nazioni che a livello europeo spingono, perché la cittadinanza globale sia una realtà, un diritto, e che quindi sia permesso anche alle persone che possono e vogliono migrare di sentire il proprio territorio laddove loro approdano e farne quindi parte collettiva, beh, questo è un punto centrale che può assolutamente essere oggetto di una professione. Ed è per questo che da ultimo l'impegno è diventato a livello mondiale, essere responsabile dell'Educational Working Group all'interno del gruppo Civil 20, quindi organizzazioni della società civile che aderiscono al G20, significa proprio questo. Dopo l'Arabia Saudita introdurre i temi di cittadinanza globale ad un livello collettivo, in modo che questi diventino un percorso, una prospettiva di trasformazione per il mondo che lasceremo alle future generazioni.